Domani il Consiglio regionale della Lombardia sarà chiamato a eleggere i tre delegati regionali che si recheranno a Roma, a Montecitorio, per l'elezione del Presidente della Repubblica. La seduta è prevista dalle ore 10 sino alle 20. I tre delegati verranno eletti attraverso scrutinio segreto utilizzando un'apposita cabina. Ogni consigliere regionale potrà esprimere al massimo due preferenze. La Costituzione prevede che venga assicurata la rappresentanza delle minoranze. Due rappresentanti lombardi saranno dunque espressione della maggioranza e uno dell'opposizione. Nell'opposizione di centro-sinistra, Partito Democratico e Patto Civico hanno deciso di votare per Alessandro Alfieri, che è il segretario regionale del PD. Nel centro-destra continuano gli incontri per giungere a un accordo. Tra i favoriti ci sono il governatore Roberto Maroni della Lega e il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo del nuovo centro-destra. Loro due ricoprirono già lo stesso incarico nel 2013 per la rielezione di Giorgio Napolitano. Questa volta però Forza Italia vorrebbe imporre un proprio esponente, inneggiando al principio dell'alternanza, ovviamente a scapito di Raffaele Cattaneo. E dunque nei corridoi di Palazzo Lombardia, del Pirellone, nelle sedi dei partiti, si è aperta una battaglia. Il voto segreto rappresenta per tutti un'incognita. Nelle ultime ore anche Silvio Berlusconi si starebbe interessando alla vicenda. Forza Italia avrebbe anche la preoccupazione di regalare un eventuale candidato non gradito agli azzurri il voto di un esponente del nuovo centro-destra, che a livello nazionale fa parte della maggioranza di governo. Il groviglio si scioglierà nelle ultime ore. I 5 Stelle hanno fatto sapere che voteranno per il loro capogruppo, Andrea Fiasconaro, ma le chance di quest'ultimo appaiono pressoché inesistenti.